Ti sei mai chiesto com'è lavorare nel reparto data di una delle più grandi media company d'Europa? Oggi lo scopriamo insieme a Just Knock entrando in Sky. Qual è la caratteristica che rende Sky un luogo di lavoro unico? Sky secondo me è unica perché nonostante sia una grande company ragiona ancora come una startup perché ti permette di sperimentare, esplorare e soprattutto di giocare e divertirti con le migliori tecnologie che ci sono sul mercato. Penso che sia la possibilità di incontrare un sacco di gente dai background più svariati e quindi questo ti permette una contaminazione di idee immensa. Sicuramente sono le persone che grazie alla loro dedizione, alla sinergia e al coraggio che hanno di anticipare quelle che sono le sfide del mercato che rendono Sky quello che è oggi. Quale valore condividete con Sky? Sicuramente la resilienza e la capacità di adattarmi ad ogni sfida che Sky richiede. Beh io sarò di parte però condivido la mentalità data driven. Con Sky condivido la capacità nel sapersi adattare e reinventarsi a seconda delle difficoltà che mi si presentano. In che cosa Sky vi ha cambiato? Beh io penso che prima ero solo io davanti uno schermo, invece ora mi sento parte di una comunità e lavoriamo tutti insieme con lo stesso obiettivo. È una realtà molto dinamica, richiede tantissima energia, creatività e soprattutto coraggio e in tutti questi aspetti mi vedo migliorata. Sky mi ha insegnato a rapportarmi con persone di ruolo differente e di conseguenza mi ha insegnato a ragionare fuori dagli schemi. Sappiamo che Sky sta organizzando un hackathon per professionisti del settore Big Data e Business Intelligence. Date un motivo a chi vi sta guardando per partecipare. Beh qual'opportunità migliore di confrontarsi in una tematica così importante, in un'azienda così importante che crede così tanto nei dati. E poi ovviamente abbiamo il buffet. Sicuramente lavoriamo nell'ambito più innovativo che riguarda i dati e l'intelligenza artificiale, utilizzando le tecnologie più all'avanguardia. Chiunque voglia affacciarsi a questo mondo non può perdere questa occasione, anche perché noi sui dati ci crediamo. Beh secondo me sarà un evento strafigo e ci divertiremo un sacco, sia noi dell'organizzazione sia i partecipanti. Allora non perderti questa occasione di partecipare all'hackathon, se sei interessato trovi il link con tutte le informazioni nei commenti qua sotto.